Vabbè Zarria ci siamo Beppe? Sì ci siamo Difficile Beppe per forza L'ho messo normale Resident Evil Zero Tu sai che c'era mio fratello Da bambino Siccome mi sentiva giocare Resident Evil Zero Quando parti c'è Resident Evil Zero Allora per lui Per lui che era piccolo piccolo Resident Evil si chiamava Zivol Ah Zivol Sì perché lui sentiva noi dire Resident Evil Sentiva il tizio da tv dire Zero E allora per lui era Zivol E lui ti arrivava da lieto e ti faceva Zivol Così Ma è pazzesco Sotto titoli vai vai A midwestern town in America Raccoon City A solitary island far off in the sea Rockfort Island An island that would become the second raccoon city Sheena Island There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events Though it is believed that the international enterprise umbrella was somehow involved Little is known as to the origin of this faceless corporation When was it established by whom And how was the T-virus created To uncover the truth We must delve deeper into the events which transpired in the beginning Before the mansion incident Prima di incidente della villa raga ma tu sei più avanti Eh sì perché Pensavo vi hai fatto nuova partita ma Raga sto video però Si vede di merda È vecchio Vabbè se è firotto Esatto Ahahahah Ahahahah Sotto mio Sotto mio Il Palapapum Pazzo ho reagito più o meno come me Ha fatto Ahah Ah Eh Porca proia Che arrivano delle vagine in faccia con i denti vabbè ma questo questo mash up resident evil final fantasy che è comunque interessante ora lì Chris check the current position and investigate the surrounding area eh vabbè raga sborra sull'elicottero però Billy Cohen direttamente da D.O.C. ah si? c'è un personaggio di chiamato Billy Cohen no cioè Cohen si ma vabbè mica la famiglia Cohen per forza inizio a stare calmo comunque ideo Kojima totale volevo dire questo perchè? perchè 40 minuti di video si 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 c'è quella frase che adesso leggerai impossibile tornare indietro onesto boh basta saperlo ok intanto vedo con piacere che abbiamo i comandi normali non i comandi si che bello che bello che bello sono qualche giro un attimo proprio davanti sto facendo davanti indietro ah che bello ah qua comunque ci sono i sedili sporchi di sangue ho visto c'è un cristiano morto lì ma non me lo fa analizzare dove è Cristiano? io lo vedo che c'è un cristiano lì ah si è vero c'è una scarpa i bagagli di Jack sono sparati di sedili sono macchiati di sangue allora andiamo nella porta che vediamo all'inizio quindi tornando indietro comunque ecco posso già notare una partiamo da un presupposto ma intanto qua ricordiamo che entrambi l'abbiamo giocato io l'ho giocato da bambino qualche anno fa io non mi ricordavo tra le cose che non mi ricordo che non mi ricordavo è per esempio il fatto che lei fosse Rebecca cioè non mi ricordavo assolutamente un cazzo ecco io anche se l'ho giocato anni fa io pensavo fosse una cinese eh no 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 l'ho compinta fosse una cinese no 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 invece Rebecca la stessa che abbiamo visto nel primo eh si si eh vabbè io ho toccato una porta qua per sbaglio quale parte ho toccato? eh in giù ok 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 eh si c'è Gesù Cristo è tutto sputtusato in faccia oh occhio è buono ah buono è bestiale no 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 aspetta aspetta come si spara? non lo so ehm il R1 è ehm ehm cazzo X è R1 e X ok eh qua mi pigliano mi pigliano è per forza eh raga è difficile tu no no ho messo normale ma qua non mi ricordavo un cazzo oh ciao raga è stato un piacere è stato palesemente un piacere io sono andato via sti cazzi è stato palesemente ti diti padre se li ammazzi ti ha fatto un video dicevo no ma credevo fossero morti è andata così ah si 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 fuori la piaccia allora ho spiegato un po' di munizione io esatto uno io minchia ma mi devo mi devo riabituare a sti comandi eh allora qua abbiamo una porta davanti a noi c'è una tizia bionda no colicata fermo io sono andato sotto ancora sono finito nell'area fumatori fuori la pioggia si sta rapidamente trasformando in un diluvio ok io vediamo vediamo perché mi adesso sto sparando non ho capito da che parte vengo sono mezza morta tra parentesi dio ah si sono anch'io sono andato giusto sto entrando nella stanza 202 non sembra esserci nulla di utile ah vabbè qua qua se mi ricordo bene c'è un po' di roba di affare andate munizioni parabellum ah ma quello tra l'altro è un altro cristiano sputtusato c'è un documento diario del passeggero 14 luglio oggi il capo è in partito degli ordini e abbiamo il compito di condurre delle indagini sui resti del laboratorio nelle montagne di Arclà di tua madre siamo divisi in due squadre il nostro è il gruppo iniziale e dobbiamo indagare su ciò che resta delle ricerche abbandonate 16 luglio purtroppo la produzione preliminare di armi biorganiche ha dovuto essere interrotta a causa di queste indagini lo stesso vale per quell'altro tipo lì è ancora molto ciò che non sappiamo sulle reazioni al crostaceo virus T non pensavo fosse un granchio vabbè frutti di mare ci sarebbero ancora moltissime interessanti ricerche da condurre in merito in base alla specie e all'alimentazione somministrata dosi anche minime di virus T possono provocare notevoli mutazioni in fatto di solidità dimensioni moltiplicazioni di tonsini interna e sviluppo cerebrale assumendo il controllo di questi effetti si avrebbe la possibilità di produrre un'arma potentissima ma dallo sviluppo improvviso dell'involucro deriva una conseguente fragilità soprattutto alcune aree divengono estremamente vulnerabili ed è ancora più grave il fatto che di queste aree è il guscio che protegge il cranio questo laboratorio in cui ci stiamo recando stava conducendo le stesse ricerche ci sarebbe senz'altro utile per raccogliere dati e campioni in grado di aiutarci nelle nostre ricerche 19 luglio il giorno fatidico sta finalmente per arrivare e io sono sempre più agitato i giornali e le televisioni locali di Raccoon City abbondano di notizie relative a strani omicidi avvenuti nei soborghi della città ma non posso credere che la causa di ciò sia il virus anche perché se lo fosse di fa no non posso pensarci adesso devo concentrarmi sulle indagini e fare in modo che tutto vada per il meglio e invece sei morto come un cane questo poveretto deve essere stato attaccato durante il sonno coperto di sporra devo prendere solo seponizione come? devo prendere seponizione interessante il fatto che sembra tutto molto veloce in realtà è da giorni che ci sono degli omicidi nella zona eccetera vanno poi mandano è da giorni che dicono che cazzo allora io ho preso le munizioni aspetta che qua sto faticando la mappa si apre con L2 con R2 con R2 si apre la mappa eccoci qua ok quando è blu significa che abbiamo preso tutto quando è verde penso che si non lo so allora c'è qualcosa siamo calmi siamo calmi esatto che cazzo c'è nulla di utile in Cribble vicino alla scaletta a pioli però ancora blu però ancora blu allora cosa stiamo sbagliando questo poveretto è morto come un cane abbiamo capito c'è qualcosa quella roba da perire le tasche sono vuote è ancora blu raga se devo iniziare a interagire a caso con tutte le robe abbiamo un problema se esco ah ora me la da verde uscito me la da verde ok mentre questo corridoio è ancora blu però raga io non c'ho voglia di cliccare a caso in tutti i posti ma non luccicavano gli oggetti no aspetta diventa blu quando tu stai nella zona mi sa ah si per me si e questo è un problema vabbè entriamo nella 201 un attimo vediamo che succede che bello però porca troia si diventa blu quando sei nella zona bon così abbiamo cambiato le meccaniche va bene ah la musica di salvataggio che bella ecco ah si oh erba verde è proprio bella quella dello zero adesso mi sono ricordata quando ho sentito allora fatemi curare un attimino sono ancora su attenzione ho sprecato l'erba porco di... va bene lo stesso leggiamo ordini investigativi macchie di sangue alcune parti sono illeggibili 8 miglia al nord di Raccoon City le montagne di Arclei si trova nelle montagne di Arclei si trova il centro di addestramento della nostra compagnia è stato chiuso a NIF al momento stiamo conducendo uno studio preliminare volto alla riapertura del la prima unità investigativa si trova già sul potto per avviare le ricette esigo che il vostro quadra fornisca il supporto necessario William Burke William Burke che cazzo è è quello del 2 è proprio lo scienziato del 2 del 2 il resto è illegibile che quindi ha contribuito lo sviluppo di tutta la madonna no non salvare ancora non salvare ancora cerchiamo di non morire anch'io non salvo perché non è successo niente ancora mi tengo i però non c'è cassone perché non c'è cassone perché non c'è cassone non è che qua cambiava qualcosa andiamo a vedere perché c'è una roba chiamata personale aspetta delle scatole già sono sparse a b è chiusa e non può essere aperta sulla porta si legge ufficio del conducente ah tu sei uscito in generale si si e quindi vado un attimo che riesco anch'io io ancora in assenza volevo capire se potevo mettere qualcosa in qualche dispositivo legge schede usando la scheda giù vabbè questa è una caramellina chiaramente vabbè ma noi facciamola alzare hai in mano un oggetto la chiave del treno ok perché è quella che si alza è partito un video ah guarda lì mio fratello ryan atwood buongiorno chi è? a tenente cohen eh sì eh raga ma stai calmo intanto vabbè è stato un piacere ah boh capito ma fatti i cazzi tuoi potrei spararti e poi non lo oh 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 quindi edward edward ma è un pazzo si tolta la finestra ti tagli ma infatti raga c'è ha dei problemi vabbè forse la respirazione è tutto è tutto smozzecato e fa raga i doberman un problema no raga io i dio di doberman te vieni 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 qua vieni qua bastardo te ti ho preso no 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 cagna di merda a cuccia seduto sto morendo sto morendo raga si ma quanti ce ne sono girati piccia no no e vabbè però senti mi hai scassato la minchia che dici io direi di sì boh due cani di merda bisogna ammazzare i cani da un problema in peccato raga basta no sono solo due ammazzate quei due ok stiamo 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 calmi sono morta adesso praticamente no vabbè attenzione ancora dopo che mazzi cani esamina il corpo di quello che si è affrontato alla fine fammi fammi combinare qua ok esaminiamo il corpo eduarderi così felice solo poche ore fa bravo renditi utile almeno cazzo di coso allora va bene allora lì c'è una scheda non possiamo andare lì l'ufficio del conducente che bisogna tornare indietro e tra l'altro dove dobbiamo tornare indietro dove ci sono tutte le bestie vero? ma è passato mio fratello e le ha fatte fuori allora c'è un ufficio del conducente ma la chiave cosa c'è scritto esamina no 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 niente non li ha fatti fuori vagono e ristorante no dobbiamo tornare proprio indietro e questo è un problema allora devo devo ficcare un salvataggio tattico comunque Rebecca c'è anche nel primo e si Rebecca è quella che suonava il piano ti ricordi? esatto ma se non mi ricordo male fa una fine del cazzo? non mi sembra o forse sai che forse potevi perché mi pare adesso minchia abbiamo giocato l'anno scorso non mi ricordo già più cazzo se non mi ricordo più un cazzo no ma mi pare potevi salvarlo esatto determinati personaggi potevano morire o non morire forse Rebecca faceva parte di quelli tra l'altro un saluto al piccio di Ema che non si unisce a noi perché è un coglione è online? no è andata così è andata così esatto boh io li secco perché ma è stupendo si gira e aspetta che arrivi si gira a guardarmi è lì che aspetta cane di merda mori uuuh pffa i bagagli sono ovunque però raga qua e no ah cazzo io sono perdito ma ci sono anche delle scale che salgono su o delle scale che salgono su allora però raga qua stiamo già usando troppi colpi ma avete già rotto troppo il cazzo allora dove va uuh e volevi ah c'erano delle scale te sei salito su no non sono andato dritto vai dritto ok ok poi dopo ci andiamo eh eh pronto Enrico 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 ciao posso leggere mi posso rispondere rebeca posso escoltare oi ascoltare abbiamo abbiamo dettagli informazioni del fugitivo da un documento foundo nel rec lagone Billy Cohen mati as 23 persone 23 persone abbiamo anche confirmato che è instituzionalizzato quindi guarda posso me raga Ma no, ma è così carino È ricco qua Allora Io tornerò dopo il video Indietro a vedere le scale dove porta Aspetta Ah sì, perché questa era la stanza iniziale No, perché Volevo andare subito alle scale Ma ho sbagliato, sono andato dritto Proviamo le scale Enrico? Ok, sto salendo Che bello l'audio Ok, erba No, non voglio il telefono Voglio erba, grazie Erba, allora Ah, ma qua c'è Interessante, c'è Bloodborne qua Aspetta Sembrano uova di qualche tipo Esatto Una porta di guida Gennettino, si è formata intorno Vabbè Ma non è che schifo Che cazzo Niente, qua non c'è un cazzo C'era l'erba praticamente Non possiamo un po' di guida e oltre Eh mo Possiamo tornarci di giù tranquillamente Proprio Mo Giusto? Sì, sì, sì Però se scale scende con calma Allora No Attenzione, c'è un problema Mi senti? Attenzione, problemi tecnici Esatto Perché io adesso sono nella stanza iniziale Perché ti riconosco la borsetta Lì intanto lo era bloccato Proseguiamo di qua Ah, ha usato la chiave Mi sa Ha usato la chiave del treno Non hai più bisogno Non hai più bisogno Ti sento Hai visto, lo sapevo Però invece Suki Buttate via la chiave Quando ti dico che c'è un cristiano morto Ma non ti dico che c'è un cristiano morto Ma non ti dico che c'è un cristiano morto Cooperate con te Con un criminale come te Listen, little girl If you haven't noticed There are some pretty freaked out things on this train And I for one want to get out of here I don't think we stand a chance doing it alone You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help I can handle this on my own And don't call me little girl All right, miss, do it yourself Effettivamente è la faccia di una che ha 8 anni Rebecca Chambers Well then, Rebecca Why don't you go and try While I went here Rebecca Chambers Bo Bestia Ma a parte che sono mezza morto Ma perché? C'è un po' un documento Aspetta, aspetta documento Allora Avviso ai supervisori Dopo aver chiuso il vagone e il ristorante I supervisori sono richiesto a spegnere L'apertura automatica delle porte Dopo essersi assicurati che tutto il personale abbia avvenuto il vagone L'interruttore principale delle porte automatiche Si trova sul tetto del quinto vagone Ce lo ricordiamo? Tetto quinto vagone, stampato Le ispezioni avranno luogo quando il treno sarà all'interno del deposito Dopo aver compiuto le ispezioni Utilizzare la scala sul retro del secondo piano del vagone e il ristorante Umbrella Corporation Azz Ma quindi il treno E questo qua è il treno privato dell'Umbrella Tendenzialmente Sì, sicuramente Anche perché se sei in una zona di merda Solo dove possono passare E niente, quindi Sono delle scave Ok, Rebecca, cosa? No, lui aspetta lì, ha detto Me l'hai già detto, me l'hai già detto Sembra essere una porta automatica Ma manca la corrente E va B Andiamo su Me serverebbe una seconda erba verde Io ancora ringrazio a Dio non ne ho usate Boh Qua tutto che piglia fuoco Chiusa chiave Partito un video, mi sa Ok Esatto Oh Cristo Siamo Buongiorno Vabbè, ma non mi sembra il caso Allungare le mani Vabbè Insomma Ma che Qua lo spreco Munizioni con sto piccio Che devo fare? Devo scappare? Aspetta, mi indieta, sì da nozze Aspetta, aspetta, aspetta Sono tornato giù Oh, 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 oh Esploso No Eh no, raga, sto morendo No, ok Secondo me Si potevano fare Eeeh, vabbè Max Payne Io ho spiegato due munizioni Quando ho capito A voi sentite che non gli facevamo un cazzo No, ma guarda che magari C'era la scelta Si poteva ammazzarlo o non ammazzarlo Farcela o non farcela Non lo so Ma è una Dimmi se non è Sefiro Tappa Eeeh C'è proprio uno che canta così Quindi? Eh, guarda Eh, Gesù Cristo sta controlando Eeeh Vai, Bing Grazie Sì, sì Fine Now take these with you If you find anything Give me a call All right Eh Pazzesco Dai, muovi il culo Manuale del giocatore 2 Cambio del personaggio È un sistema che ti permette Di controllare due personaggi Principale Rebecca e Billy E va, Bing Personaggio che controlli Indipendentemente Ma puoi usare R Per controllare direttamente Selezionando compagni Una scavata di stato Potrei andare in istruzioni Solo Squadra Attacco Inattivo Cambio Scambio Eh, che bordello Rebecca può combinare Herb Debole in fase difensiva Ma può utilizzare il set Per mescolare le sostanze Non può combinare Herb Estimamente efficace Entrambi i personaggi moriranno Va, non c'è più voglia di leggere Mi avete rotto il cazzo Allora, va bene Allora, se vai in fondo C'è una scala Dice Vuoi devi salire sul tetto Però, boh Eh, aspetta Tetto Perché a me serve dell'erba Qua Perché abbiamo dei problemi Mi serve una cura Qualcosa Sul tavolo C'è un pasto A me Mangia Da metà Ok, vai Sì, niente Mi sa che bisogna salire E tra l'altro Dovrà salire lei Perché lui è troppo grosso Io ho già capito Questa meccanica qua Allora Stiamo salendo Io lì vedo che luccica Ma poi non mi farà Accogliere una minchia Ah no Ma sono i riflessi Va bene Va bene Va bene Saliamo Sì Vai Fai sta cazzo di scala Stump Stiamo scendendo In sto buco Ma in realtà è venuto anche lui Con me Vabbè Interessante Lì cavi scoperti Se mi avvicino muoio No, in realtà Vediamo un po' Il cavo di alimentazione È stato scollegato Ricollegare Sì, si Ricollegalo Ok Ah, interessante Però hai rotto il cazzo No, in realtà è stato scoperti No, in realtà è stato scoperti No, in realtà è stato scoperti No, in realtà è stato scoperti